Una vicenda spiacevole che fortunatamente non ha avuto un tragico epilogo ma che si è invece conclusa con l'arresto di cinque criminali, tra di loro pure un diciottenne, vittima dell'Odissea un imprenditore romano di 42 anni, sequestrato e picchiato per quattro giorni poiché non in grado di saldare un debito, un prestito a tasso usuraio di poche migliaia di euro, soldi che l'uomo non riusciva a dare indietro. Ecco perché nel mese di ottobre un piccolo gruppo di persone si è presentato nella sua abitazione di Roma per prelevarlo e condurlo nello scantinato di un bar di Nettuno. Quattro lunghe giornate di agonia, violenze verbali e fisiche, due uomini pronti a percuoterlo quotidianamente per indurlo a restituire il denaro. Un finale quasi da film con la vittima capace di fuggire una volta accompagnata dagli aggressori sul litorale laziale dove era previsto l'incontro con un conoscente per ottenere i soldi da restituire agli aguzzini. I malviventi si distraggono e lui scappa seminandoli per poi chiamare il 112. Avviate le indagini, i carabinieri della compagnia di Anzio hanno quindi rintracciato i responsabili. Oltre a quattro uomini è stata fermata anche una donna di origine ucraine con precedenti.